Siamo con Alberto Veronese che recentemente è stato ospite di Sette Gold alla trasmissione Due chiacchiere in cucina. Come mai? Buongiorno Caterina, sì sono stato ospite alla trasmissione perché sono stato invitato insomma da un esponente dell'associazione italiana sommelier che è resident, ricopre un ruolo fisso all'interno della trasmissione, mi ha chiesto di partecipare come vincitore del master sui distillati presso la Maschio Buonaventura e così per caso ha iniziato tutto questo. Com'è andata durante il programma? Cos'hai fatto? Ma guarda è andata bene perché mi sono divertito tantissimo alla fine solo che comunque appena arrivato io non sapevo neanche da che parte guardare quindi mi sono trovato un attimo così spaesato però dopo alla fine c'è stata una conduttrice che è fantastica e mi ha dato due tre dritte quindi insomma è andata bene, ci siamo divertiti, è stato bello, veramente bello. Il tuo percorso comunque ti ha sempre portato a specializzarti con distillati, vino in quanto sei stato barman per molti anni? Sì, io vengo dalla miscelazione quindi il mondo dei distillati è sempre stato un mondo che mi ha affascinato. Dopo attraverso quel master ho avuto la possibilità di approfondire, di approfondire le tecniche di produzione e quant'altro e mettermi alla prova anche perché comunque c'è una prova di degustazione con riconoscimenti e insomma avere il titolo che mi è stato conferito quindi sì, è stata una bella soddisfazione. Quando abbiamo registrato quella puntata ho avuto il piacere di stare con Francesca Penzo che tra l'altro saluto, che è la miglior sommelier del Veneto in carica. Che ricordiamo anche lei di Rovigo? Sì, anche lei di Rovigo, un po' più di provincia però sì, anche lei di Rovigo di fatto e è stato veramente bello lavorare con lei perché anche se non abbiamo fatto la stessa registrazione assieme quel giorno però comunque eravamo assieme durante le prove, durante la puntata e abbiamo riso tanto, credimi. Qualche retroscena sul programma, sul mondo della televisione? Guarda, mi farebbe piacere raccontarteli, se avessi da raccontartene perché in realtà mi aspettavo che ci fossero, insomma, ci fosse occasione di fare, di fare una prova non so, di correggere e in realtà sono stati tre minuti e sono stati tre minuti filati quindi non c'è stato né modo né tempo di fare papere però insomma è andata bene quindi buona la prima diciamo ecco. Quindi ti rivedremo presto in tv? Ma guarda, io non sono superstizioso però non voglio tirarmela quindi non lo so, vedremo, vediamo. È stata una bella esperienza, nel senso hai potuto dare molti consigli immagino? Consigli? Beh, più che altro ho appreso io, ecco, mettiamola così perché comunque non finisci mai di imparare è stato bello poi avere contatto con i produttori andare nelle cantine, andare nelle aziende andare nelle distillerie, vedere come viene realizzato il prodotto perché comunque un conto è studiarlo sulla carta fare la degustazione guidata un conto è entrare nel vivo dove vengono realizzati questi prodotti quindi sì, insomma è stato veramente ho appreso molto Grazie mille Prego, grazie a voi